Ben tornati in diretta nella finestra di aria pulita dedicata all'economia. E' tornato a trovarci in questo 2012 il professor Marco Nicolai che è docente di finanza straordinaria all'Università di Brescia. Bentornato professore. Buongiorno, buongiorno ai telespettatori. Insomma, notizie buone proprio anche per come si sta comportando lo spread in questo ultimo periodo non ne abbiamo, abbiamo delle notizie che riguardano per quanto riguarda il nostro paese le misure per la crescita. Dopo tante tasse, dopo tanti aumenti, dopo tanti sacrifici a cui gli italiani sono chiamati forse dovrebbero esserci queste misure che potranno risollevare l'Italia. E' vero o non è vero che attraverso la lotta all'evasione fiscale e le liberalizzazioni possiamo davvero salvare il nostro paese? La domanda che io faccio a lei. E lascio naturalmente aperte tutte le domande ai cittadini da casa che possono chiamarci utilizzando il numero di telefono proprio consueto, 0245 70 23 12. Devo dire innanzitutto in apertura che abbiamo chiuso un anno che è abbastanza impegnativo. Le cifre non sono soltanto riflesse dagli spread, come ricordava ha toccato 531 basis point ieri quindi ci indebitiamo a circa il 5% in più della Germania. Però le cifre sono negative anche per quanto riguarda i cali di borsa. La borsa l'anno scorso ha lasciato un 25% ed è una delle performance peggiori della piazza europea. Non è migliore il dato che riguarda l'inflazione che ha una media dell'anno scorso del 2,8% è un tendenziale di oltre il 3% che è una tassa occulta per i cittadini perché il loro potere di acquisto diminuisce. Né tantomeno possiamo parlare della situazione per quanto riguarda la situazione delle imprese. Un'impresa su tre, dati Banca d'Italia, quindi inconfutabili, ha grosse difficoltà nell'accesso al credito. Ci sono stati circa 38 fallimenti al giorno nell'esercizio nel 2011 e la situazione anche per le previsioni future del PIL che quest'anno si chiude con una crescita molto contenuta nello 0,5% stimano nei forecast, nelle previsioni di Confindustria, quelle più recenti, un meno 1,6%. Quindi di fatto sicuramente dobbiamo affrontare questo clima recessivo, ampiamente recessivo per il 2012 puntando non soltanto a quella massima manovra di tassazione perché questo è quello che i cittadini e le imprese hanno visto nella manovra Salva Italia, ma dovremmo anche puntare sulla crescita. Ecco, ma la crescita può passare, professore, attraverso la lotta all'evasione fiscale quindi partendo dal blitz di Capodanno a Cortina fino ad arrivare alle liberalizzazioni quindi i tassisti che sono già su piedi di guerra, gli avvocati, i notai, le farmacie, le aperture appunto totali insomma indiscriminate dei negozi, questo vuol dire crescere? Ma innanzitutto cerchiamo anche di capire il peso che abbiamo subito nel 2011 in termini di tassazione perché di austerity si muore, cioè di rigore si muore se uno ha la pazienza di leggersi scaricandosi in internet il rapporto sulla Grecia del Fondo Monetario Internazionale dice che il clima di austerity che abbiamo imposto alle greche la Grecia l'ha mandata in piena recessione e si può anche leggere le misure che sono state chieste dal licenziamento dei dipendenti pubblici fino all'IVA misure draconiane che hanno messo in ginocchio questa economia quindi è chiaro che non si può puntare solo al rigore se l'incipit del governo appena insediato, cioè quello di rigore, equità e crescita dobbiamo sicuramente rilanciare sulla crescita un dato perché ricordiamolo tutti le manovre tra le manovre Berlusconi e la manovra di Monti sommano nel 2011 un saldo di 80 miliardi di euro che non è l'incremento fiscale, è il saldo di correzione dei bilanci pubblici per dare una dimensione c'è stata la necessità di 5 anni di manovre per arrivare alla stessa cifra e nello specifico Prodi 2006 e 2007 somma 35 miliardi Berlusconi 2008, 2009, 2010 13, 11 e 13 miliardi cioè 5 anni di manovre, 2 di Prodi e 3 di Berlusconi hanno accumulato l'equivalente delle manovre del 2011 e la manovra del 2011 è fatta per più dell'85% da tasse da tasse o sui patrimoni come l'IMU, sulla casa o da tasse sui consumi come l'IVA o l'accise sulla benzina è un peso estremamente significativo capiamo che questo deve servire a guadagnare una fiducia sui mercati internazionali e soprattutto a impedire il deficit di bilancio ma questo rischia di mettere in ginocchio anche la nostra economia la rischia sui mercati internazionali ha dato dei risultati o no? Perché come ricordavamo prima lo spread ha superato quota 500 quindi dei risultati nell'immediato non si sono visti secondo lei si potranno vedere in quale arco temporale? Allora innanzitutto noi abbiamo varato la manovra che doveva in qualche modo bloccare un trend che aveva toccato 567 basis point certo qualcuno pensava che semplicemente il lasciare il passo del governo Berlusconi avrebbe resuscitato le economie nazionali si è visto che questo non ha avuto questi esiti siamo partiti inizio anno con qualcosa come 180-187 basis point l'anno scorso e abbiamo toccato comunque alla fine dell'anno i 350 basis point e quindi pochi basis point in meno di quanto ha lasciato il governo Berlusconi e ieri si è toccato il 531 per cui grosse rivoluzioni finché non si agisce sulla crescita non ce ne potranno essere sulla crescita mi concedo una parola io capisco che le liberalizzazioni possono in qualche modo in un paese che da anni circoscritto dai lacci e lacciuoli delle lobby o delle categorie possa in qualche modo essere aria fresca però deve incidere sui bilanci io non sono convinto che questo avrà soprattutto se queste riguardano le liberalizzazioni di cui si è accennato adesso per cui tassisti e farmacie cioè se non si incide sui servizi pubblici se non ci incide sulle... ho sentito parlare dei trasporti cioè se non ci incide su aree dell'economia importanti non penso che le liberalizzazioni possano cambiare gli assetti di bilancio e in ogni caso occorre investire al mondo Stiglitz che è un economista un premio Nobel ha detto che anche per l'America quindi non soltanto per l'Europa un investimento dell'1% anche con un 1% di tasse porterebbe a un incremento del PIL del 2% avrebbe un effetto moltiplicatore diciamo in termini di raddoppio sulla crescita dell'economia ora è un effetto moltiplicatore importante in realtà in Europa qualcuno stima anche tre volte l'investimento che si fa la creazione di PIL che un investimento pubblico può portare è chiaro che Monti l'ha detto nel messaggio di fine anno non si possono fare investimenti con molti soldi pubblici questo lo possiamo anche capire e non vedo quindi a questo punto perché non a seguire il varco seguito a onore del vero dal decreto sviluppo di Tremonti confermato dalla manovra di Tremonti e anche nel salvavita di realizzare investimenti con i privati realizzare investimenti con i privati vuol dire dare la possibilità ai privati di costruire e gestire delle infrastrutture pubbliche questa è una metodica che si chiama project financing ampiamente recepita nel nostro ordinamento e ampiamente promossa a livello internazionale e non capisco però come lo si possa fare non si possono fare le nozze con i fichi secchi cioè senza ipotizzare di mettere delle risorse finanziarie poche o tante che siano nella partnership col privato visto che anche gli operatori privati sono chiamati a affrontare momenti difficili la parte pubblica deve mettere delle risorse l'intuizione di Tremonti che poi abbiamo ritrovato nel salvavita è stata quella non potendoci mettere risorse finanziarie fresche quindi i vecchi contributi a fondo perduto sulle infrastrutture è stata quella di promettere una detassazione ai privati sulla costruzione sulla gestione delle opere che realizzeranno quindi è una sorta di baratto anziché contributo ti do una detassazione può valere sull'IVA come può valere sulle imposte dei redditi questa è stata un'intuizione importante che valeva solo per le autostrade il salvavita l'ha estesa alle grandi infrastrutture per la mobilità questo per me dovrebbe essere estesa a tutte le opere e le infrastrutture anche degli enti locali può valere per un asilo nido per una casa per gli anziani può valere per un ospedale può valere per molte opere che riguardano anche il territorio peraltro estenderla a opere infrastrutturali del territorio non soltanto farebbe riverberare un po' di federalismo che mi sembra sia una parola dimenticata ma esiste ancora il federalismo secondo lei? guardi non è che mi abbiano molto incoraggiato mi abbiano molto incoraggiato la misura finora adottata che ha trasformato in comuni i nei esattori delle imposte né tantomeno l'assetto di governo che non mi sembra nell'agenda abbia in termini molto diciamo veloci l'attuazione di quel federalismo che ha sprombattuto nello scorso governo si è cercato di portare avanti dando attuazione alla legge costituzionale però tornando indietro realizzando opere per il territorio con un impegno alla detassazione lo Stato in realtà non mette risorse semplicemente rinuncia a delle imposte che non avrebbe comunque perché se non dà questa detassazione queste infrastrutture non le faranno professore in chiusura di trasmissione lei prima ha parlato di recessione l'Italia andrà in recessione come ci dice l'Ox nel 2012 l'Italia è già in recessione è chiaro che con l'inizio dell'anno noi siamo già in recessione perché le stime molto contenute dello 05 del PIR li guardavano il terzo trimestre del 2011 ora siamo in un contesto di recessione secondo lei quanto potremmo uscire da una situazione stagnante come questa? guardi io c'è chi è abile a fare previsioni in realtà sono predizioni nessuno ha la sfera di cristallo il 2012 sicuramente è un anno di recessione è un anno in cui bisogna fare sacrifici ma è un anno in cui se non investiamo se non investiamo quindi la parola d'ordine è investimento secondo il professore Nicolai assolutamente io la ringrazio per essere stato con noi ci vediamo alle ore 12 sempre in diretta con Aria Pulita e domani mattina alle 7 puntualissimi a dopo